Eccezionalmente ritroviamo Padre Ernesto della Corte in conversazioni bibliche anche in questo venerdì santo. Bentrovato Padre Ernesto. Pace bene a tutti quanti voi in questo giorno così impegnativo. Eh sì e noi abbiamo questa grazia di ritrovarti. Queste letture sono brani biblici che ogni cristiano dovrebbe meditare a fondo e lo facciamo insieme a te. Io direi che soprattutto oggi nella liturgia della croce che è veramente il momento unico durante tutto l'anno. Lutero diceva non basta ascoltare e vedere la gloria di Dio. Dobbiamo guardare quel Cristo crocifisso, lo sposo crocifisso di cui ci racconta il grande Giovanni. Perché noi ogni venerdì santo leggiamo sempre la passione secondo Giovanni. Per quale motivo? Perché quella passione ci fa vedere che nella morte c'è la gloria. Quella croce rivela in un modo sommo, quanto Dio ami l'uomo, attraversando non solo la fragilità della carne, lui è il logos diventato sarx, debolezza, ma su quella croce lui rivela la sua gloria. Lui è un Cristo crocifisso, è un Dio crocifisso. La croce è davvero il momento sublime, per cui è quella la centralità di questa giornata. Poi tutti gli altri riti, compresi le Via Crucis, non dovrebbero mai oscurare la liturgia della croce. Perché noi sappiamo che nel racconto della passione secondo Giovanni, Gesù manifesta ancora più che nella vita e nelle azioni quel fatto che lui ha sempre rivelato. Ego eimi. Io sono. Io sono. Quante volte che lo dice in tutti i modi. Lui è l'uomo coronato di gloria e di splendore. Lui è l'uomo per eccellenza. Il Pilato, che è il rappresentante del potere, lo definisce ecceomo. Ecco l'uomo. Sì, è vero. È veramente l'uomo. Colui davanti al quale dovremmo ingegnerciarci. E Pilato crede di poter comandare su Gesù. Ma il Gesù di Giovanni è un Gesù sovrano. Anche quando sta in croce, appare come collocato su un trono. Sì, il Cristo dalla croce troneggia, signoreggia. Perché la croce è rivelazione del suo amore. E dalla croce, morendo lui, consegna lo spirito. Cioè effonde lo spirito tanto sull'intera creazione e sulla chiesa che è nata proprio ai piedi della croce. E quando leggiamo e meditiamo la passione secondo Giovanni, dopo aver vissuto ieri la lavanda dei piedi con cui abbiamo iniziato la messa in cena domini, dobbiamo interrogarci sulla presenza di Dio, di un Dio che è protagonista proprio dell'evento della passione. Perché Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, ci ha detto Giovanni nel dialogo tra Gesù e Nicodemo. E anche Paolo nella Lettera ai Romani dice Dio non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato, lo stesso verbo che usa Giovanni, paradigomi, lo ha consegnato per tutti quanti noi. E nella prima lettera Giovanni dice Dio ha mandato suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Per cui tutto il Nuovo Testamento rilegge quei carmi del servo di Isaia che noi abbiamo letto proprio in questi giorni e anche oggi. Sono espressioni in cui si parla della consegna del figlio da parte del padre. Quel servo è la persona più intima del padre, è il suo primo ministro, è colui che è venuto come unico mediatore. Per cui nella passione il padre consegna il figlio. Gesù è il consegnato e Gesù consegna a noi quello spirito perché davvero possa illuminare l'umanità e la creazione intera e dà questo spirito al padre. Il colloquio tra padre e figlio è proprio lo spirito santo. A me sembra davvero che tutto sommato Giovanni proclama l'azione più bella di Gesù. Dalla croce rivela l'amore del padre. Lui ha fatto tutto quello che il padre gli ha detto di dire e di fare. Gesù è veramente obbediente. Il grande cardinale Ratzinger diceva una espressione molto forte. Ci si allontana con orrore da un Dio che declama la morte del figlio. Ma quanto questa immagine diffusa tanto però è falsa. Perché vedete non è che un Dio che il padre che si disinteressa del figlio. Assolutamente. La croce è rivelazione della gloria del padre. Cristo è la presenza del padre. Quell'abbandono, quella consegna significa che davvero Gesù ci viene dato. Lui è il nostro fratello, è il primogenito di tutta la creazione. Lui è il primogenito. Colui che risorge e vince la morte e darà anche a noi questo dono che lui ci ha ottenuto. Ecco perché dobbiamo davvero ripartire dalla passione di Gesù Cristo. Anzi, i Vangeli sono stati scritti a partire dalla teologia dei tre giorni. Il venerdì santo, il sabato santo, il giorno della Pasqua. Per cui anche il padre è presente nella passione. Perché Gesù in croce è più che mai, come dice Paolo, l'immagine del Dio invisibile. È sulla croce che egli ci dice chi ha visto me, Filippo, ha visto il padre. Noi in Gesù contempliamo la pienezza del padre. È sulla croce che Gesù rassomiglia in modo pieno al padre. Perché ci ama, come ha detto al capitolo 13, estelos, fino all'estremo, fino a dare tutto se stesso. Ecco quanto è bella questa espressione. Diceva Guigo Primo e Certosino, questo grande monaco, che l'origine dell'amore, l'amante, va adorato nudo sulla croce. E San Francesco Nostro dice contemplare Cristo nudo e crucifisso. Non c'ha nessun segno di quella regalità umana. Lui è un re diverso perché serve, dona la misericordia del padre. Ecco per quale motivo noi in questa bellissima pagina oggi dovremmo contemplare questo dialogo tra il padre e il figlio. E quel loro dialogo è proprio lo spirito che viene dato a ognuno di noi. Sulla croce davvero c'è un dialogo della stessa Trinità, tra il padre e il figlio e quello spirito che ci viene è dato. E ancora una volta la croce dimostra quello che dice Giovanni nella prima lettera. Non siamo noi che abbiamo amato Dio, ma è lui che ha amato noi. Perché è dalla croce che il padre ci chiede di credere nell'amore. È dalla croce che Gesù aveva detto quando sarò innalzato, che ha il doppio senso di essere crucifisso, ma anche esaltato, lui ci attirerà tutti a sé. La croce ha una forza che attira, centripeta e ha una forza centrifuga, respinge il peccato, respinge la morte, respinge tutto ciò che è contrario a Dio. Perché? Perché dice Paolo nella lettera di Timoteo, lui vuole il padre che tutti siano salvati. Dio ci aspetta, Dio ci ama. Dio è quel padre di cui ci ha raccontato in questa Quaresima tante volte la pagina di Luca 15. È il padre che esce continuamente incontro ai suoi figli. È il padre che ci ama anche quando siamo suoi nemici. È il padre che ci perdona mentre noi crocifiggiamo il figlio e lo rifiutiamo. Il padre è l'origine stessa dell'amore. Ecco perché Gesù oggi, in questa meravigliosa liturgia della croce, narra quel padre che è l'amante, l'origine di ogni cosa e ci chiede di conformarci in tutto al pensare di Dio, a fare la sua volontà fino all'estremo, perché nella sua volontà è la nostra pace. E allora la croce non è il momento in cui, come dice banalmente qualcuno, Dio è soddisfatto della morte del figlio. Non un Dio che vuole il sacrificio del figlio, ma un Dio che mostra come il dare la vita per gli altri è veramente la rivelazione sublime del suo amore. È colui che ci ama fino in fondo, fino a dare la vita per noi. Ecco perché quando ci si ama non c'è un amante che non comporti la croce iscritta nella sua carne. Una madre che soffre per il figlio, un marito che soffre per la moglie, un amico che soffre per l'amica. Quando si ama la croce è iscritta, è a fuoco nella nostra carne, perché è la croce dell'amore, non del dolorismo. È quel Cristo che ama e che attraverso le sue carni consegnate a noi oggi in quel dolore e sofferenza, ma che sono aperte alla speranza, ci dice guardate che solo io sono il vero amore. Solo in me anche il dolore, la morte, acquista un altro senso, il soffrire per l'amore. Sì, perché l'amore, quando tu lo senti dentro, ti penetra nelle carni. Ecco perché ieri sera abbiamo contemplato Gesù inginocchiato che lave i piedi di scepoli e ci racconta, ci ha raccontato ieri sera, di quel Dio che effettivamente inginocchiato davanti a noi ci lave i piedi per toglierci la sporcizia, la lebra del peccato. Oggi sulla croce Gesù vive la sua passione d'amore, passione e morte d'amore. E ci racconta il Padre in Gesù quanto sia grande questo suo amore e quanto sia forte la sofferenza che ha per la nostra lontananza. Per cui è un Dio che continuamente ci attira a sé, ci prega di rientrare nella sua comunione e lui non cessa in modo opportuno e inopportuno, direbbe Paolo, di cercarci sulle nostre strade. Allora oggi non diamo spazio al dolorismo, ma dobbiamo sorridere perché questa croce ci rivela quanto è grande l'amore di Dio. Possa oggi la contemplazione di quella nuda croce su cui c'è il crocifisso che dà importanza alla croce, è il crocifisso che dà importanza alla croce e che rivela in quel segno l'amore del Padre. È un amore che noi non potremo mai cambiare perché quell'amore ci ha dato la vita e continua a richiamarci a vita nuova attraverso la conversione. E quella che umanamente appare come una sconfitta è in realtà la grande vittoria del bene sul male. Dio Padre è l'amante e il figlio è l'amato. Certo hai ragione, agli occhi del mondo sembra una sconfitta, ma quando si ama una madre, un padre, una moglie, un marito, un amico, ama farsi sconfiggere. Bisognerebbe gareggiare nel far vincere l'altro. Ecco io oggi vedo nella croce di Gesù questo gareggiare da parte sua nel farci vincere, nel portarci a casa. Lui non vuole vincerci, vuole convincerci, cioè vuole aiutarci insieme a noi ad arrivare a questa convinzione. È l'amore che prevale, non il dolore, non la morte, non la violenza. Alla fine sarà distrutto tutto, rimarrà solo l'amore, lo dice Paolo in quel grande innalazzo all'amore di prima Corinzi 13. Per cui alla fine che cosa resta? Non c'è manco più la fede e la speranza, resta l'amore, perché l'amore è ote e ossa, gape e stine, dice Giovanni. Dio è amore. Vero, bello, non resta nemmeno più la speranza, è ormai una certezza. Grazie Padre Ernesto, noi ci ritroviamo domani nel giorno del silenzio. Certamente, con la contemplazione della croce che è veramente rivelazione d'amore. Grazie, shalom. Shalom. Shalom.